Musica Ben ritrovati a una nuova puntata di Emozioni di Neve, la rubrica settimanale del comprensorio Ponte di Legno Tonale. Le festività si sono ormai definitivamente concluse e stanno per iniziare le settimane bianche. Nonostante non siano ancora arrivate precipitazioni nevose, le piste sono aperte e i tracciati sono tutti in ottime condizioni, molto ben innevati grazie ai sistemi di nevamento programmato dei quali è dotata l'intera schiarea. C'è spazio anche per i fondisti a Vermiglio e a Ponte di Legno. Oggi ci troviamo a Ponte di Legno, in località Valsozzine, dove si trova un centro attrezzato con la possibilità di noleggiare anche l'attrezzatura, un centro molto bello che si trova lungo il torrente Narcanello e ai piedi del bosco. Siamo con Daniela Toloni, responsabile del centrofondo Valsozzine. Qui è inverno, siete riusciti ad offrire una bella pista agli appassionati di fondo. Sì esatto, qui abbiamo una bellissima pista di un chilometro e mezzo, adatta sia per i principianti che anche per chi sa già sciare. L'anello può essere diviso per chi è meno capace e chi è già capace. Chi vuol venire qui può contare anche su lezioni sia individuali sia collettive. Esatto, si organizziamo anche lezioni individuali, corsi, nei weekend e anche durante la settimana, per gli adulti e anche per i bambini delle scuole. Come sono andate le festività e cosa avete in programma per il proseguo della stagione? Le festività sono andate molto bene, c'è stata un'abbondante presenza di persone. Adesso speriamo di riuscire ad allungare il tracciato nel suo completo dei 5 chilometri e di organizzare i corsi per i turisti ma anche per le persone del posto. Voi organizzate corsi anche per i bambini e questi corsi verranno proposti alle scuole? Sì, abbiamo un corso di avviamento allo sci di fondo il sabato pomeriggio per tutti i bambini. Il 19 gennaio a Vezzadoglio si svolgerà la diciannovesima edizione della Caspolada al chiaro di luna. Nonostante l'assenza di precipitazioni, anche quest'anno il comitato organizzatore è riuscito a predisporre un tracciato ben innevato. Ce lo racconta Emilia Occhi, presidente della Proloco di Vezzadoglio. In effetti stiamo facendo delle magie. Purtroppo la scarsità di neve, come su tutte le Alpi, ci ha costretto a dover innevare il percorso che sarà sempre sul fondo valle e sarà di circa 5-6 chilometri. L'abbiamo ridotto un po' proprio per le condizioni della neve. Dobbiamo ringraziare sicuramente la società SIT che ci permette di fare questa bellissima neve programmata e poi trasportiamo giù per innevare tutto il percorso. Ecco, con queste condizioni, nonostante appunto non ci fosse neve naturale, siete riusciti ad avere numerosissime iscrizioni. Segno che questa è non solo una delle manifestazioni più rappresentative del comprensorio Ponte di Legna Zonale, ma anche una delle più amate. Sì, in effetti sì. Non potevamo ingannare i nostri sostenitori e siamo riusciti comunque a dare un ottimo percorso. Siamo già arrivati a più di 2.000 iscrizioni e eventualmente, se qualcuno lo volesse, potrebbe farlo anche sabato direttamente. Prima, naturalmente, dalla partenza. Cosa viene consegnato a chi si iscrive? Viene consegnato una busta dove c'è il pettorale che è diviso in vari colori. C'è il pettorale bianco, il pettorale giallo, verde e rosso a seconda di com'è la prenotazione. Ne stiamo parlando qui sulle piste da sci perché ai partecipanti verrà data la possibilità anche di acquistare uno ski pass giornaliero. Esattamente. Venerdì sera noi apriamo la consegna di queste buste con il pettorale e con le caspe e chi verrà a ritirare questa busta il venerdì sera dalle 9 alle 11 potrà usufruire dell'acquisto di un giornaliero scontato al 50% che vale su tutti gli impianti di salita di ponte di legno tonale. Diciamo che la caspolada è veramente una grande festa dove soprattutto le persone sono in compagnia, vogliono festeggiare, vogliono divertirsi. E infatti sul percorso è già stato programmato quattro ristori dove saranno dati dei prodotti locali e dove ci sarà tanta musica, tanta animazione e anche alla partenza verrà dato sia del tè che della cioccolata sempre con musica. Il 10 febbraio i fondisti si spostano in località Santa Polonia, sempre qui a Ponte di Legno, per una manifestazione molto molto particolare e noi siamo con uno degli organizzatori, Andrea Faustinelli. Ce la puoi raccontare? Allora, mi sto allenando anche per questa grandissima gara che facciamo a Santa Polonia. È nata di più di 30 anni fa, in trebbi veniva ad avere 100 anni, superare 100 anni. Almeno davamo la possibilità a tutti di partecipare. È una gara storica, penso che sia la più antica qui a Ponte di Legno. Quindi tutti possono partecipare purché si organizzino in gruppi di persone le cui età sommate danno il numero 100? Allora, devono sommare 100 anni o superare i 100 anni. Ci sono quadri che arrivano oltre i 200 anni. Quindi è la possibilità di scegliere tutti perché il calciato è tutto piano. Sono due chilometri per tre. Tanti adesso vengono anche con i vestiti storici di una volta, sigla a fondo e tutto. È una gara un po' partitorale. Non c'è il vincitore, diciamo, più veloce. Vengono solteggiati tre tempi. E quello che va più vicino, la quadra che va più vicino al tempo che esce, ha vinto il trofeo. Chi volesse partecipare, come può fare per iscriversi? Telefonare lì a Sky o se no la mattina dentro a Santa Polonia. Perché magari arrivano due, ne manca un atleta e allora si aggiunge e lì formano le squadre. Quindi mi pare di capire che l'essenziale non è gareggiare, non è essere più veloce, ma avere tanta voglia di divertirsi, di stare in compagnia. Si partecipare a questa gara storica, diciamo, si fa una giornata in compagnia in mezzo alla neve. Vi ricordo infine che proseguono gli appuntamenti con Ice Music, i concerti che continueranno fino al 30 di marzo nel Mercedes-Benz Bonera Ice Dome di Ghiacciaio Presena. Sabato 19 gennaio l'appuntamento è con Mirko Pedrotti, vibrafonista trentino, musicista eclettico, tra classico e moderno. Sono come sempre due gli appuntamenti, alle ore 16 e alle ore 18. I biglietti possono essere acquistati in una qualsiasi delle nostre biglietterie oppure sul nostro sito www.pontedilegnotonale.com. Non mi resta a questo punto che salutarvi e darvi appuntamento alla settimana prossima.